Ciao a tutti! Con rinnovata gioia, ma che davvero da fuori di testa, ma chi me l'avrebbe mai detto? Ma chi me l'avrebbe mai... com'è possibile? Ho depositato la proposta di legge per fare in modo che la terapia chelante venga resa ospedaliera. Mai, mai nella vita me lo sarei aspettato. Io prima ancora che il movimento nacque pubblicai la mia storia e poi migliaia di persone incominciarono a fare la terapia chelante e oggi è una proposta di legge. Ma che spettacolo! Ragazzi, sarà dura, sarà durissima. Io veramente adesso devo scappare di nuovo, vi voglio bene, vi abbraccio però con tutta la gioia del mondo, vinciamo noi, vinciamo noi! Ciao!